ho combinato un'unione un principe è diventata celebre con il ruolo di undici nella serie stranger things nel 2018 time l'ha inserita addirittura nella lista delle 100 persone più influenti del mondo e dall'8 marzo millie bobby brown arriva su netflix con un'eroina tagliata su misura per lei in damsel interpreta elodie devota da migella che accetta di sposare un affascinante principe per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito intrappolata in una caverna con un drago sputa fuoco dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere sono sempre stata attratta da personaggi che trasmettono messaggi molto chiari sull'emancipazione femminile ed è quello che mi interessava anche in questo caso spero che le persone che vedono damsel colgano anche questo aspetto l'attrice è convinta che questo personaggio abbia reso più forte anche lei ho imparato a non sottovalutarmi a capire che ero in grado di fare anche questo mi sono messa alla prova anche dal punto di vista fisico vorrei che i ragazzi che vedono damsel si sentano più autonomi resilienti indipendenti e capiscano che possono farcela ora a 20 anni l'attrice britannica ha un obiettivo credo che vorrei solo essere una donna d'hollywood che forse è più difficile che uccidere un drago